9 novembre 1974, muore in carcere il terrorista tedesco Holger Mainz. Membro della Rote Armée Fraktion, viene arrestato nel 1972 per presunta partecipazione a un attentato. Muore dopo uno sciopero della fame durato 50 giorni, iniziato per protestare contro il regime di isolamento a cui era stato soggetto per tutta la durata della detenzione preventiva. Grazie per la visione!